Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it Che cosa nasconde questa scatola bianca? Andiamo a vederlo subito Voilà, il nuovo smartphone Huawei Ascend P7 Adesso cerchiamo di estrarlo senza distruggerlo Questo è il dispositivo che vedremo tra pochissimo Vediamo cosa offre la confezione La confezione che come vedete non è completa In quanto comunque si tratta della confezione che mi ha mandato Huawei per il test Abbiamo qui, che adesso è rimasta incastrata Eccola qua, due tag NFC da utilizzare con lo smartphone Il caricabatterie con il cavetto micro USB Il caricabatterie è da 1A che adesso non vuole uscire Mannata che ora che lavori Ok, voilà Vedete quindi, caricabatterie, cavetto Mancano gli auricolari che non ci sono in questa confezione Ma nella confezione di vendita sono assolutamente presenti Manca anche il piccolo aggeggio per rimuovere la micro SIM Che è assente anche in questa confezione Ma presente nella confezione di vendita Ma bando alle ciance, veniamo a lui Il nuovo dispositivo Huawei top di gamma per questo 2014 Come potete vedere il display è davvero ottimo Abbiamo un display da 5 pollici con risoluzione Full HD Il tutto è incastonato in due vetri Sia anteriore che posteriore Gorilla Glass 3 Vetro resistente al graffio Vetro che ha una particolare texture Che adesso chiaramente qui non si vede Con la telecamera Comunque ha un bellissimo effetto Soprattutto sotto la luce del sole Si vedono tutti dei puntini davvero molto bello ed elegante Ed ha la cornice laterale in alluminio Quindi un dispositivo che dal punto di vista estetico È davvero un gioiellino Huawei ha migliorato davvero di molto Il livello di assemblaggio che avevamo comunque già visto Con il Huawei Ascend P6 La versione precedente Lo spessore è di soli 6,5 mm E in mano il dispositivo si impugna davvero molto bene Soprattutto grazie al suo spessore davvero ridotto Andiamo a vedere adesso un pochino Cosa offre a livello hardware questo Huawei Ascend P7 Abbiamo innanzitutto nel retro una fotocamera da 13 megapixel di Sony Una fotocamera che mi ha stupito davvero in modo molto positivo Con il flash a led Lo speaker è posizionato qua in basso Nel retro verso sinistra E ha un suono davvero potentissimo L'unica cosa è che la posizione è davvero molto infelice Perché? Perché innanzitutto non ha un piccolo sporgenza Che permette di magari tenerlo rialzato Comunque cosa succede? Succede che quando lo appoggiamo su un tavolino O ancora meglio su una tovaglia Su un divano Il suono viene attutito di parecchio Proseguiamo a scoprire l'hardware del dispositivo Abbiamo in basso la porta micro USB Con il microfono per le chiamate Il lato sinistro del dispositivo è pulito Abbiamo soltanto l'antenna Mentre sul lato destro abbiamo il tasto circolare Che è stato posizionato al centro del dispositivo In modo che si riesce a raggiungere In modo davvero molto comodo e facile con la mano Poco sopra abbiamo il tasto unico del volume E qui abbiamo i due slot per la micro SD e la micro SIM Nella parte frontale Fotocamera da 8 megapixel Per i selfie Una fotocamera davvero molto performante Che scatta delle buonissime foto Nonostante sia comunque quella frontale Poi vi faccio vedere magari anche l'interfaccia Che è stata utilizzata da Huawei Mentre il tutto è spinto da un processore Creato da Huawei Quad Core da 1,8 GHz Con 2 GB di RAM E 16 GB di memoria interna Rete LTE Doppia antenna Prende davvero in una maniera molto ottima Come difficilmente alcuni smartphone Non riescono a prendere il segnale NFC Bluetooth 4.0 Wi-Fi Quindi diciamo che a questo dispositivo Non gli manca assolutamente niente Adesso andiamo a scoprire un pochino L'interfaccia e il sistema operativo Di questo Huawei Ascend P7 L'interfaccia di Huawei si chiama E-Motion E a differenza dei launcher Che siamo abituati a vedere sui dispositivi Android Non ha il menu delle applicazioni Perché tutte le applicazioni sono disponibili Nelle nostre varie pagine Diciamo una scelta molto simile A sito operativo iOS Che diciamo che questo Huawei Ci ha preso un pochino di spunti Che tuttavia è davvero molto comoda Perché comunque abbiamo la possibilità Di creare delle cartelle Chiaramente dove raggruppare Tutte le nostre impostazioni L'utilizzo è il classico Utilizzo della home di Android Ovvero basta tenere premuto In un punto vuoto Per poi poter aggiungere O modificare alcune funzioni Della nostra interfaccia Ad esempio possiamo modificare Le transizioni Aggiungere un widget Cambiare lo sfondo Passare all'home semplice Ovvero una home Con tutte le funzioni principali Visualizzate nello smartphone Che comunque non è proprio bellissima A vedersi Per creare una cartella Basterà semplicemente Tenere premuta l'applicazione E spostarla poi dentro All'altra icona In questo modo creiamo le cartelline Abbiamo un widget Diciamo principale Che ci mostra Il meteo Come vedete Abbiamo le informazioni meteo La località Dove ci troviamo La possibilità di utilizzare Il lettore audio Per ascoltare musica I contatti Recenti E un widget di foto Vedete che scorre Con le ultime nostre foto Scattate Questa interfaccia È davvero molto funzionale L'unica cosa Che le prestazioni generali Del dispositivo Risentono un pochino Della scelta Di Huawei Di utilizzare Il loro processore Al posto magari Di un Processore Qualcomm Che sicuramente Sarebbe stato Più performante Quindi Durante l'utilizzo quotidiano Avvertiremo Dei rallentamenti Che Ahimè A volte Possono Anche dare fastidio Adesso andiamo A scoprire un pochino La personalizzazione Di Huawei Perché è una personalizzazione Davvero Importante Innanzitutto Abbiamo la possibilità Di cambiare temi Ci sono oltre 100 temi Disponibili Ci sono una decina Preinstallati Sul locale E un centinaio Sono disponibili online Come vedete Possiamo davvero Stravolgere Il nostro dispositivo Proviamo a inserire Questo tema Andiamo a fare Download E attendiamo Che venga scaricato E poi installato Questi temi Sono tutti gratuiti Sono disponibili Tramite L'applicazione temi Quindi diciamo Che Potete davvero Cambiare Il vostro dispositivo In un attimo Senza avere Nessun tipo di Sbattimento Diciamo Il tema È stato scaricato Adesso lo andiamo Ad applicare E come vedete Cambieranno Tutte le icone La nostra schermata Di sblocco Che acquisterà Diverse opzioni Ovvero Se spostiamo In alto Avviamo la fotocamera In basso Per sbloccare A destra Per i messaggi E a sinistra Per le chiamate Come vedete Tutte le icone Sono cambiate E davvero Ce ne sono Tantissimi Di temi Che poi vi consiglio Di provare Ritorniamo Sempre alle applicazioni Installate da Huawei C'è una gestione Telefono Che è Una funzione Davvero molto interessante Perché Tiene sotto controllo Tutto Diciamo Quello che potrebbe Rallentare Il nostro smartphone Come vedete L'interfaccia È davvero molto semplice Noi Basta che tocchiamo Per fare una scansione Dove Il Questo programma Troverà Dei file Che magari Hanno bisogno Di essere ottimizzati File da cancellare Oppure chiudere Delle applicazioni Ed altro Come vedete Adesso lui mi suggerisce Di chiudere 5 applicazioni Per liberare la memoria Ed è possibile Eliminare 244 MB Di file Che non vengono utilizzati Per aumentare la memoria Poi abbiamo La possibilità Di ottimizzare Manualmente 16 applicazioni Che vanno in funzione Con lo schermo spento Ovvero in background Questo perché Perché se Usciamo da Questa applicazione E andiamo a vedere Diciamo la funzione Di gestione Delle applicazioni Che la troviamo Dentro Le impostazioni Adesso però Ho cambiato l'icone Quindi fatico A riconoscerla Ok Eccola qua No Scusate Dentro il risparmio Energetico Possiamo scegliere Quali applicazioni Utilizzare In background Come vedete In questo caso Vi dice Quali sono le applicazioni Che hanno un consumo Intenso Che funzionando In background Possono Buttarmi giù La batteria E lui mi suggerisce Di evitare Il loro funzionamento Chiaramente Con lo schermo spento Queste applicazioni Non funzioneranno E' una soluzione Un po' drastica Perché se chiudiamo Gmail Quando seguiamo Il display spento Non ci arrivano più Le mail E quindi Addio E-mail in push E quindi Magari poi Starà a voi Gestire Quali applicazioni Utilizzare Sempre Per quanto riguarda Risparmio energetico Abbiamo la possibilità Di attivare Diverse gestioni Di risparmio energetico Perché? Perché la batteria E' da 2500 mAh E' una batteria Che non è proprio Potentissima Però comunque Con un utilizzo blando Si riesce ad arrivare Tranquillamente a sera Se invece Volete arrivare Proprio a sera Tranquilli Magari fare anche Qualche giorno in più Abbiamo la possibilità Di utilizzare La Funzione ultra Che crea Una specie Di interfaccia Personalizzata Dove Chiude Tutte le altre Applicazioni E ci permette Di utilizzare Soltanto la funzione Di Telefono Ed altro Vi faccio vedere Così almeno Vi rendete conto Del funzionamento Vedete Schermo nero Viene Molto semplice Possiamo telefonare Mandare un messaggio Contatti E poi uscire In questo modo La batteria dura Va davvero Una vita Anche se abbiamo Un 10% Di batteria Tranquillamente Possiamo Poi Arrivare A sera Andiamo a vedere Adesso Sempre Altre funzioni E occupiamoci Del browser Il browser Che è un browser Personalizzato Da Huawei Proviamo ad aprire Il sito di Repubblica Nel frattempo Notate anche La tastiera Che è la tastiera Swipe Nel frattempo Mi si è anche Disconnesso Il wifi Non capisco Come mai Proviamo a riconnetterlo Qui tra l'altro Ora mi prende Il gprs Ok Il wifi Si è riconnesso Non voglio Condividere La mia posizione Apriamo Il sito Di Repubblica E andiamo A visualizzare La versione Desktop Possiamo scegliere Chiaramente Di visualizzarlo Anche Scorrendo In fondo Che lo permette Sempre Il sito Di Repubblica Magari Ci mette Una vita Come vedete Il browser Standard Non è proprio Il massimo Ok Mettiamo Il sito Desktop E vediamo Se ce lo apre I nostri tempi Di caricamento Sono un pochino Lunghi Ma la colpa Non è del telefono La colpa Della mia rete Wifi Che Ultimamente È un po' Ballerina Ok 9 turni 4 mesi Di stop Al morsicatore Suarez Che sinceramente Sembra un po' Una buffonata Potevano Darsene Magari Un po' Di più Come vedete Il browser È indubbiamente In difficoltà Il sito Repubblica Al momento Non lo riesce A gestire In modo Ottimale Ok Il sito Repubblica È davvero Pesante Però Diciamo Che non ci siamo Affatto Proviamo a cambiare Browser E proviamo A usare Chrome Andiamo ad aprire Il sito Repubblica La tastiera utilizzata È swipe L'originale Diciamo Quella che ha inventato Il metodo di scrittura Con lo swipe Appunto Andiamo anche In questo caso Ad aprire La versione desktop Anche in questo caso Mi ne è messo Il risalto Oddio È anche il solito sito Quindi Difficilmente Trovevamo Un'altra notizia Attendiamo Il caricamento Della pagina Ok Come vedete Con Chrome Le cose Un pochino Migliorano Il caricamento Della pagina È un pochino Più veloce Anche lo scrolling È un pochino Più veloce Nonostante Il caricamento Non sia ancora Terminato Comunque Con Chrome Assolutamente La situazione Diventa molto più Gestibile E si riesce Anche a navigare In modo Sicuramente Più piacevole Rispetto Al browser Stock Usciamo Adesso Vediamo Sempre qualche Applicazione Cina Che ha Inserito Huawei Abbiamo la funzione Specchio Che permette Di Specchiarsi Vedete Abbiamo la possibilità Di fare Lo zoom Più o meno Possibilità Di Adesso In questo caso Questo è Questo è Uno scherzetto Che fa Che noi Basterà Soffiare Per Mandare via L'appannamento Questa è Chiaramente L'applicazione Che serve Per Specchiarsi Magari Se uno è Molto Vanitoso Veniamo Veniamo Adesso A sentire Come suona Con L'applicazione Musica Ci sono Diverse Playlist Che Andranno A Scegliere I brani A seconda Del nostro Umore Felice Sereno Triste Energetico Oppure Tutti i brani Ed altro Noi adesso Andiamo a visualizzare Le cartelle Con Magari I brani singoli Facciamo partire Un brano E sentite lo speaker Che è davvero Potentissimo La qualità Non è affatto male E anche L'interfaccia Che utilizza Huawei Per Lettore musicale È davvero Molto carina Abbiamo la possibilità Di attivare Il DTS Se utilizziamo Poi degli auricolari Apprezzeremo Davvero Ancora Molto di più La buona Qualità audio Di questo dispositivo Se è presente È possibile Anche Ascoltare Scusate Leggere Un testo Vediamo adesso Come si comporta Con la fotocamera La fotocamera Che come ho detto All'inizio È una delle funzioni Che mi ha stupito Davvero Molto di più Innanzitutto Voglio farvi vedere Questa funzione Che è davvero Comodissima Da spento Doppio clic Sul tasto volume Voilà Scatta subito La foto Chiaramente Adesso io Non sono riuscito Ad inquadrare E scatta La foto In meno di Un secondo e mezzo Foto che poi Possiamo andare A rivedere Subito Nella nostra Galleria L'interfaccia È davvero Molto semplice Abbiamo i classici Tasti Sulla destra Per foto E i classici Tasti Sulla sinistra Per scegliere Le varie opzioni Le modalità di scatto Sono diverse Abbiamo la funzione normale La funzione intelligente Che sceglie Da solo le scene Funzione bellezza Dove applica Una specie di filtro Per il viso L'HDR Foto panoramiche I filtri Diversi filtri Per cambiare colore E dare degli effetti Alle nostre foto Nota audio Per scattare una foto E registrare Sopra Fino a 10 secondi Di audio Comando audio Serve per scattare le foto Dicendo scatta Cheese Sorriso E altro Foto migliore Fa diverse foto Poi ci fa scegliere A noi la foto Che riteniamo migliore Oppure chiaramente Ce la suggerisce Anche lui E filigrana Questo è un altro Tipo di effetto Che comunque Non è Proprio Il massimo Ritorniamo a intelligente Vi faccio vedere Che comunque Messa a fuoco E scatto Sono molto veloci Ha un pochino Di difficoltà Quando dobbiamo fare Delle macro Vi faccio vedere Alcune foto Che ho scattato Con il dispositivo Questi sono I classici test Che faccio Devo dire che La qualità È davvero molto buona E anche la risoluzione Viste sul pc Assolutamente Rendono Diciamo giustizia A questa fotocamera Come vedete In questo caso Non sono riuscito A mettere a fuoco Mentre Nella secondo scatto Se non riuscito A mettere a fuoco Diciamo che si ha Un pochino di difficoltà Nel mettere a fuoco La registrazione Dei video È buona Così come anche L'audio Che è davvero Molto forte L'unica cosa L'unica cosa Che va in crisi Quando registriamo Un filmato Con del rumore Forte Come ad esempio Ad una festa Dove c'è magari Della musica alta Questo è il risultato Davvero scadente Non si sente Praticamente Niente Anche di notte Scalta Delle buone foto Come vedete Sono molto luminose C'è un pochino Di rumore Però Assolutamente Non mi aspettavo Davvero Una buona Riuscita Per quanto riguarda Gli scatti Notturni Come vedete Anche i fuochi di artificio Assolutamente Nessun tipo di problema Quindi Il reparto Diciamo Multimediale Promossa Pieni voti La fotocamera frontale Permette di fare Anche degli scatti I famosi selfie Panoramici A 8 megapixel Che Devo dire Che vengono Davvero molto bene E rendono Soprattutto Molto bene Huawei Ascend P7 È un dispositivo Che viene venduto Ad un prezzo Ufficiale di 399 euro Un prezzo Davvero molto Interessante Il dispositivo Esteticamente È davvero Davvero Molto bello Maneggevole Solido Forse un pochino Troppo scivoloso Però Devo dire Che dal punto di vista Della Linea E dei materiali Huawei Ha fatto davvero Un passo Da gigante Vi voglio far vedere Un attimino Questa funzione Se vi ricorda qualcosa Ci sono queste icone Che assomigliano Tantissimo Alle icone Che abbiamo Su iOS 7 Anche diciamo Questa funzione Di swipe Dal basso verso l'alto Devo dire che Sì Hanno preso Qualche spunto Di qua di là Comunque Alla fine Ci sta Come ho detto All'inizio Buona ricezione Doppia antenna Funziona davvero Molto bene Anche con 3 L'ho provato Non ha problemi Assolutamente Nel ritornare Velocemente Quando magari Va in roaming Qualità telefonica Molto buona Durante le chiamate Il nostro interlocutore Ci sente davvero Molto bene Quindi devo dire Che anche da questo Punto di vista Huawei Ha fatto davvero Un ottimo lavoro E insomma Devo dire che Questo Huawei Pissate mi è piaciuto A parte Come avrei detto Qualche problemina Con Come avete visto Sicuramente Qualche problemino Con il browser Un processore Magari più performante Lo avrebbe reso Ancora più Interessante Dal punto di vista Della velocità Comunque devo dire Che faccio i complimenti A Huawei Perché ha fatto davvero Un ottimo lavoro Ciao Da Diego